Allora Rinnegan è tornato in Arena 6! Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Tu parti sempre così! Era andato in Arena 7, dopo sono sceso. Ma perché vuoi trovare che cosa? Perché vuoi trovare questa! Vedete ragazzi, lui vuole trovare la leggendaria, la scintiva! Perché siccome l'ultima volta che ho detto scendo per trovarle... Non l'hai trovata! Hai trovato il Mago di Ghiaccio! È vero, hai trovato il Mago di Ghiaccio! Anzi, dovrei tornare ancora indietro perché fra poco c'è questa! È vero, leggendario incantesimo, dissottare un gruppo di Skyletri in un punto qualsiasi dell'Arena, spaventoso, bastardi! Ah, allora devo tornare ancora più indietro per trovarla! Esatto, vabbè allora ragazzi, l'Irnegan oggi, tanto che l'Irnegan fa il chest opening, io vi dico che lui vorrà vincere usando solo gli incantesimi, ma stavolta ha solo e soltanto gli incantesimi! Solo quelli! Perché l'ultima volta che l'abbiamo fatto, mi pare che non aveva la gelo! No! Invece adesso ha anche la gelo, mettendo lo specchio, occupa un posto in più, e in più ha messo anche il missile, quindi oggi, dopo vediamo il deck, tanto come è entrato in contatto, vediamo un po' il Ghegret, portatrice gherry, o leggendaria, no? No, estrattore! Fai vedere, fai vedere il... Faccio vedere, faccio vedere! Questo è il deck ragazzi, solo in contatto, non potenzio ancora niente, perché? Non li usi! No, perché do potenziare la palla di fuoco? Ah, vuoi potenziare la palla di fuoco? A livello 7! Vabbè ragazzi, via via, iniziamo subito, proviamo! Devi fare tre colonna, eh! Sì, posso provarci! Ecco intanto, cosa vuoi? Oddio, così proprio in bomba! Così, parte subito a razzo! Parte a razzo! Va bene, va bene, va bene, va bene! Congelamento! Ti attacca a testa bassa proprio! Ignorantemente va avanti! Esatto! Come fai? Impossibile! No, no, ce la posso fare! O trovi un livello 1 contro! No, no, posso farci! La velena! Quindi così la velena... O미 di spaziare... Simplemente dall'altra parte, sei intelligente! Morta o non morta? Buon ma muore subito! No, perché? non arriva su non arriva da solida non arriva da solo c'erano troppi scheletrini vabbè ragazzi vediamo un po se cos'è forse dico forse quando hai le leggi di doppio ma così e dovevo stare attento però non hai capito il dragon perfetto mi sa che questa la perdiamo è eccito provarci ormai cosa lo congedi tanto ormai te la butta giù la torre ma tu un melagrano di merda ma scusa ma è normale non hai giocato bene mi dispiace ottimo gioco e la scuola tu il tuo culo rischio adesso attacca attacca a testa bassa si basta è ora di smettere attacca attacca inutile che difendi e difende e non ce la fai stai zitto ma tu stai c'è il limonato morose stai zitto ragazzi dobbiamo rifare la partita sognateci qua perché hai congelato la allora ragazzi si vuole riprovare non vuole lasciarmi l'ipad non vuole lasciarmi i comandi stai zitto vabbè vediamo un po cosa oh bravo cosa mi piace che attacchi in maniera ignorante ecco non tendo bombardamento a tappeto attenzione attenzione ah ma te gli uccidi gli sgarri sennò mica la zappa di merda che hai tu si è il zappa contro sgarri livello 7 uh veleno con 200 gli tolgo dai quanto taglio la torre? no di nuovo lui basta perché è tutto attrono? non so è sempre lui però oh ma non frega niente io attacco tanto ma non fai con le frecce stai zitto stai zitto stai zitto stai zitto stai zitto sta facendo il nervosio ooooh zam 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 ma ne ha colpito gli scheletrini? ma gli scheletrini non li uccide? ma ci sono cazzo si vede che gli scheletrini non ho mai usata ma è un incantissimo di merda secondo me va bene secondo me perfetto perfetto ragazzi mi sa che perdiamo 3-0 anche questa signora l'hai finita di rompere i coi dico quello che mi hai fatto male porca puttana e poi comunque cosa vuoi vincere no consegniamo la mia torre no questo è il livello 7 anche due missili così sulla torre centrale quella centrale inutile ha 30.000 di vita tanto una torre la pardi per forza ma prende una torre almeno ha la stessa vita che ha la tua torre piccola vai vediamo l'idiota allora non mi dipende giusto no assolutamente vabbè non mi difendo guarda quanta vita guarda quanta vita 3.000 4 non è più facile che butto giù la da 2.108 sicuramente è vero e allora però hai perso questa posso provare a fare così adesso si difendi e basta ma lo stesso poi cominci ad attaccare lui crede in me chi è chi è lui è ghiandino è ghiandino mi è stato regalato una ragazza che aveva il centro estivo si chiama ghiandino lo porto qua lo portiamo anche a milano è il mio nuovo porta fortuna quindi consigliami allora devo buttare quindi devo difendermi così giusto si ho col razzo perché uccido la strega così a livello 1 lo potrebbe che con la palla di fuoco ah dio mio ah scarica gelo aspetta con gelamento ah ha messo la furia bravo 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 adesso ragazzi la tecnica è difendersi fino alla morte ah ride vedi che ride gliandino cosa devo fare consigliami consigliami va bene va bene va bene va bene veleno perché così tutte le truppe che fa partire da lì eh lui le mette di là ma intanto quello lì è mola eh è mola ho capito vediamo un po' cosa fa eh 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 attenzione uh double veleno ragazzi che c'è un mazzo quello lì faccio 200 di danno alla torre quindi quindi no oh 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 stare infocata giusto bella giocata bella giocata ci viene anche la strega bella lì bella lì oh grazie ghiandino grazie bene 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 questa forse questa forse questa forse ci va aspetta aspetta di avere 10 dirisi non giocare subito no no io aspetta dai aspetta la sua mossa dobbiamo aspettare oh 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 zap e frecce dai vittogli tanto ok zap e frecce ok bravo bravo adesso vuole attaccarmi da questa parte qua maledetto buttagli il razzo non lì da l'altra parte si ma se lui mi attacca da questa parte sarà più sensato che attacco da oh va bene lasciamo stare ma scusa è di là che è meno vinto dai buono dobbiamo difendermi adesso muore quel moschettere ok allora adesso chiandino chiandino io credo in te tu credi in te chi è che gioca secondo te adesso chi mette non lo so adesso vedo buttagli un altro razzo intanto un razzo vai vai razzo vai razzo gol perfetto ecco qui è ricoglionito non gioca pam perfetto attenzione veleno e gelo assolutamente anche la veleno vulmine vabbè bravo gli ho buttato giù la mongolfiera effettivamente bella giocata zap adesso muoiono anche quelli muoiono con un colpo ok aspetta missile missile no 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 400 400 400 400 aspetta quanto arriva adesso 309 possiamo ancora un altro missile no 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 ok ricarico il missile via ok ha buttato anche il missile butta la palla di fuoco lì in mezzo eee bam si ok blowjob team blowjob attento di la veleno giusto la veleno muoiono anche no muoiono tutto quello che c'è muore male si si che la vince dai che la vince si è incazzatissimo beh però tu devo perdere contro uno che ti ha fatto ti combatte ti combatte ti combatte bravo ce la fa ghiandino grazie a ghiandino grazie a ghiandino grazie a ghiandino mi ha aiutato ha vinto con solo incantesimi quindi ragazzi non è piaciuto lasciate un bel mi piace va bene va bene fa anche tanto di cappello ah 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 grazie a ghiandino grazie a ghiandino